sono roberto mercadini e per il ciclo posso sognare di farlo ho pensato questo ho pensato che se si sogna bisogna sognare in grande molto in grande e quindi ho pensato di sognare di andare sulla luna come astolfo nell'orlando furioso e astolfo ci va così sulla luna sale sull'ippogrifo e poi volando percorre le pendici di un monte altissimo il monte della luna in cima al quale c'è il paradiso terrestre dove lo attende niente meno san giovanni evangelista che gli dice non pensare di essere qui per un tuo merito tu hai una missione da compiere devi andare sulla luna a riprendere il senno perduto di orlando dopodiché li passa a prendere il profeta elia col suo carro volante e così questo terzetto profeta elia san giovanni evangelista astolfo si dirige sulla luna il viaggio descritto da riosto è molto bello non è molto accurato scientificamente io tenterei di tracciare un percorso un po più scientifico perché se è più scientifico per me è anche più visionario io credo in questo io sono per il razionalismo psichedelico quindi saliamo sull'ippogrifo l'ippogrifo va benissimo ci stacchiamo da terra voliamo nel cielo azzurro siamo quindi nella troposfera dove si verificano quasi tutti i fenomeni atmosferici dove ci sono le nuvole quasi tutte tranne eccezioni che vedremo dove volano gli aerei quasi tutti tranne eccezioni che vedremo non ci basta ovviamente saliamo ancora oltre alle nuvole oltre gli aerei e arriviamo così nella nella stratosfera la prima cosa che balza gli occhi è che nella stratosfera è buio perché il fenomeno del cielo azzurro dipende dal fatto che i fotoni vengano deviati dalle molecole del gas atmosferico ma qui l'atmosfera è così rarefatta che il fenomeno non è apprezzabile e quindi è buio e cosa si trova aerei qualche particolarissimo aereo militare può volare nella stratosfera sono aerei stranissime che sembrano più astronavi che aerei ma per citarne uno il mitico blackbird sr 71 e poi e poi ci sono nuvole nuvole molto particolari per esempio le cosiddette nubi madreperlacee sono nubi appunto con la cangiante rilescenza della madreperla bellissime ma il fenomeno più entusiasmante per me è quello dei getti blu blu jets sono fulmini che invece di scendere dalla nube dalla nube salgono e quindi dalle nubi sottostanti quella di quelli di quelle della troposfera si innalzano dentro la stratosfera assumendo questa colorazione azzurra bellissima ma non ci basta non ci basta noi andiamo oltre i getti blu oltre la stratosfera e arriviamo nella mesosfera e nella mesosfera cosa c'è aerei neanche a parlarne nubi ci sono nubi ancora più particolari di quelle precedenti ci sono per esempio le nubi nottilucenti fenomeno che si vede a volte dalla terra al crepuscolo inoltrato d'estate nel nord europa sono nubi che splendono nell'oscurità sono fluorescenti bellissime poi c'è la risposta mesosferica ai getti blu ci sono i cosiddetti spettri rossi sono lampi luminescenti rossastri che si accendono improvvisamente poi velocemente si spengono e corrispondono a una tempesta nella troposfera ma il fenomeno più straordinario è quello delle meteore qui si accendono le meteore qui se entra un corpuscolo una piccola massa rocciosa per l'attrito con questa parte dell'atmosfera ecco si incendia e dà luogo a quella bellissima scia luminescente che tutti abbiamo presente ma non ci basta non ci basta andiamo su oltre oltre le meteore e arriviamo quindi nella termosfera e qui nella termosfera le cose si fanno serie perché siamo tecnicamente nello spazio siamo dentro l'atmosfera terrestre ma anche tecnicamente nello spazio non è un limbo sottile uno strato piccolo sono sono 600 chilometri quindi molto più dello spazio che abbiamo percorso per venire fino a qui e qui cosa c'è fenomeni straordinari per esempio le aurore le aurore boreali le aurore australie e qui che avvengono e poi c'è steve c'è steve è un acronimo significa strong thermal emission velocity announcement sono delle strane barre di luce sono delle strisce lineari di luce qualcosa sembrano artificiali fanno impressione se uno non lo sa può pensare ma cos'è cosa sono gli alieni ma ma che alieni e steve ma soprattutto nella termosfera c'è a 400 chilometri dal suolo in orbita la stazione spaziale internazionale ed è qui che ci fermiamo ci fermiamo qui dove si accoglie chi chi mi accoglie non san giovanni evangelista non sono degno mi accoglie uno un po più vicino alla mia caratura mi accoglie ham ham lo scimpanzè che è il primo ominide ad essere andato nello spazio 1961 l'hanno lanciato a 250 chilometri dal suolo quindi nella termosfera quindi tecnicamente nello spazio è sopravvissuto al viaggio è tornato sano e salvo e gli hanno dato per premiarlo un'arancia e una mela allora lui mi accoglie dice non pensare di essere qui perché sei intelligente hai una missione da compiere non so quale sia ma ce l'hai guarda ti do ti do un'arancia e la mela che la stessa cosa che è andata a me come premio prendile me lo dice un po modo suo ma me lo dice io le metto via chiedo dove posso mettere l'ippogrifo l'ippogrifo verrà se ne occuperà un astronauta lì gli da dell'acqua gli da non c'è la biata gli da delle barrette energetiche dopodiché aspettiamo che aspettiamo il profeta eliaman io non sono degno aspetterei un mio eroe laico aspetterei johannes kepler giovanni che plero il grande astronomo che nel 1609 ha scritto quello che può essere considerato il primo testo di fantascienza della storia si chiama somnium è un libro dove lui racconta che sia di sognare di leggere un libro lui racconta di dormire di sognare di leggere un libro e il protagonista del libro è un ragazzino di 14 anni figlio di una strega che ad un tratto parlando con un demone apprende di come si svolgerebbe un viaggio dalla terra alla luna è una descrizione di questo viaggio accurata scientificamente quindi siamo nelle sue mani ci passa a prendere lui e partiamo johannes kepler lo scimpanzé ham e io dobbiamo percorrere lungo tratto perché la luna dista dalla terra 384 mila e 400 chilometri siamo solo a 400 chilometri di quota quindi dobbiamo farne altre 384 mila ma siamo nelle mani che plero quindi siamo in buone mani se ha bisogno di qualcosa lo aiuta ham evidentemente io sto lì buono in un angolo e poi arriviamo finalmente sulla luna e cosa facciamo beh io farei due cose una scientifica e l'altra fantastica quella scientifica è saltellare ballonzolare al rallentatore come ho visto fare agli astronauti lunghi e alti salti una cosa un po' infantile ma legittima quella invece fantastica è cercare le bocce dove viene conservato il senno perduto e trovare il mio perché una cosa bellissima che succede nell'orlando furioso è che a stolfo sulla luna dopo aver ritrovato il senno perduto di orlando con grande sua sorpresa e costernazione trova il suo senno una bottiglia dove c'è non una grossa quantità ma comunque una quantità di suo senno e interroga estrefatto san giovanni gli dice ma come io pensavo di essere sano e san giovanni dice no ma come sano no tutti voi vivendo perdete il senno tutti voi impazzite e allora chiedendo il permesso a san giovanni a stolfo inala il suo senno e ne rientra in possesso e io penso che sia vero questo tutti noi impazziamo impazziamo non in una situazione pazzesca come questa non solo in una situazione folle come questa ma impazziamo ogni giorno nella nostra cosiddetta normalità litigando con degli estranei su facebook litigando ai semafori nel traffico per il parcheggio litigando nelle demenziali riunioni di condominio perseverando in abitudini che sono mortalmente nocive per noi impazziamo nella grigia routine della nostra prassi e invece io credo che occorrerebbe come a stolfo avere l'ardire l'ardore l'estro di innalzarsi su di andare fin sulla luna per riprenderselo il senno tutto fino in fondo ecco io posso sognare di fare questo